Eccola qui l'azione incriminata che però vale questo pesantissimo successo della Cimberio. I due punti, i due punti di Randy Childress. Su di luce era Felice Angeli, non Giulecas. Come vedi il pallone non si è staccato dalla mano del giocatore e già il led intorno al tabellone era acceso. Per cui canestro non convalidato tutta la vita. Grazie per questo fermo immagine al nostro Alessio Passoni che dimostrerebbe o dimostra a pieno titolo. Caro Francesco che il tempo era esaurito, finito, però gli arbitri hanno convalidato questo canestro per l'83-82 di Varese.